Epistola alle ebrei, capitolo 4, Signore sia lodato. Abbiamo quindi timore che, poiché rimane ancora una promessa di entrare nel suo riposo, qualcuno di voi si è ritenuto escluso. Infatti a noi, come pure a loro, è stata annunziata la buona novella, ma la parola della predicazione non giocò loro nulla, non essendo stata congiunta la fede in coloro che l'avevano dita. Noi, infatti, che abbiamo creduto, entriamo nel riposo, come egli disse, «Così giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo». E così disse, sebbene le sue opere fossero terminate fin dalla fondazione del mondo. In qualche luogo, infatti, a proposito del settimo giorno, egli disse così «E Dio si riposò nel settimo giorno da tutte le sue opere, e ancora in questo passo non entreranno nel mio riposo». Poiché dunque rimane per alcuni di entrappi, mentre quelli a cui prima fu annunziata la buona novella non vi entrarono a motivo della loro incredulità, egli determina di nuovo un giorno, oggi, dicendo per mezzo di Davide, dopo tanto tempo, come è stato detto, «Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori, perché se Giosuè avesse dato il loro riposo, Dio non avrebbe in seguito parlato di un altro giorno. Resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio». Chi, infatti, è entrato nel suo riposo, si riposa anche egli dalle proprie opere, come Dio dalle sue. Diamoci dunque da fare per entrare in quel riposo, affinché nessuno cada seguendo lo stesso esempio di incredulità. La parola di Dio, infatti, è vivente ed efficace, è più affilata di in qualunque spada a due tagli, e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e dell'imidolla, ed è in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore. E non vi è alcuna creatura nascosta davanti a lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. «Avendo dunque un gran sommo sacertote, che è passato attraverso i cieli, Gesù, il figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione. Infatti, noi non abbiamo un sommo sacertote che non possa simpatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa, come noi, senza però commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno». Amen. Signora vi benedica.